Ragazzi nuovo video, ciao a tutti! Allora, prima di tutto mi sono truccata con questa palette qui, sugli occhi e tutti i ombretti scuri quasi finita come su un secolo a finirla, questo qui è l'ombretto che è un marrone un marrone scuro, bronzato, comunque dorato tra le palette dorato e questa è la nude palette della Maybelline, vecchissima, stravecchia Video tag Allora, ho anche questo lip gloss di pina rosso bellissimo, sulle labbra, la maglia rossa, la dolce vita rosa ok, trucco questo, vi faccio vedere che sono truccata una volta all'anno quindi quando sono truccata mi faccio vedere che sono truccata Video tag, dove sono stata taggata un sacco di tempo fa scusa il ritardo Antonella mi ha taggato appunto Antonella e consigli di Antonella 2 ciao Anto, un bacio malata e ripulito, uniamoci mi sembra che l'ha ideato Antonella perché ho scritto ideato di Antonella e mi ha anche taggato Antonella quindi, scusami se sbaglio, spero di non sbagliare ideato e mi ha taggato Antonella e consigli di Antonella 2 iniziamo subito, ci sono un sacco di domande, spero di rispondere bene io sono abbastanza maniaca del pulito allora, qual è il giorno della settimana dove fai le pulizie grandi di casa? non c'è un giorno tipo lunedì, tutti i lunedì, non c'è un giorno preciso una volta a settimana almeno faccio le grandi pulizie che può essere lunedì, può essere martedì, può essere martedì mattina, martedì pomeriggio può essere tutto il giorno, magari mercoledì, tutto il giorno dal mattino alla sera può essere domenica, può essere un giorno qualunque, quando c'ho voglia ecco, diciamo così, più tutti i giorni che pulisco tutti i giorni ma la pulizia intensiva, diciamo almeno una volta a settimana sì, la faccio, assolutamente e quanto tempo impieghi? allora, facendo un po' di cose tutti i giorni quando pulisco una volta a settimana tutto faccio meno fatica e ci metto anche meno tempo diciamo, quindi non ho mai contato quanto tempo ci metto però comunque, facendo un po' di cose tutti i giorni quando devo fare le grandi pulizie ho poco da fare ecco, diciamo così ci metto poco relativamente poco c'è qualche pulizia che proprio non ti piace fare? lavare i vetri e stirare sì, direi quello e ultimamente anche perché ho poca pazienza di star lì a mettere a posto svuotare anche la lavastoviglia è una roba annoiosissima lavare i piatti a mano è un'altra cosa che non sopporto quindi vabbè, dipende quale prodotto usi per pulire l'argenteria? non ho argenteria, non ho niente d'argento? no, avevo qualcosa, sì, ma nessuno ho niente quindi non uso nessun prodotto perché non avendo l'argenteria non posso usare niente non ho niente da pulire di argenteria non ho niente cosa usi come anticalcare? per o come anticalcare? io non ho un prodotto anticalcare preferito o più usato ho uno sgrassatore che funziona anche come anticalcare punto uno sgrassatore della CIF o della Lisoform non mi ricordo, forse è del Lisoform come marca Lisoform mi sembra, sì però non ve lo faccio vedere adesso l'avete visto in altri video sicuramente mi piace abbastanza ma non è proprio un anticalcare è uno sgrassatore con anticalcare non ho un solo anticalcare hai mai creato un detergente fai da te in casa? no, no ma vorrei provare a farlo prima o poi lo proverò lo proverò mocio o rotomop? sì o no? mocio? sì, va bene mi piace, lo uso il rotomop non ce l'ho quindi non posso dire sì mi piace non ve lo consiglio perché non ce l'ho appunto ma se ce l'avessi magari ve lo consiglierei io tra i due uso il mocio quello col secchio il mocio vileda o anche non di marca va bene lo stesso e via metto l'acqua dentro del terzivo e va benissimo cosa utilizzi e ogni quanto spolveri i tuoi mobili? allora sapete già perché avete già visto un sacco di miei video pulizie eccetera i panni cattura polvere o panni in microfibra se non ho i panni cattura polvere per togliere la polvere dai mobili o lo scottex dipende da quello che ho in casa praticamente adesso sia lo scottex che i panni cattura polvere di Aldi li ho comprati ultimamente ma non mi piacciono bocciati non di marca a volte li compro anche di marca della Swiffer se li trovo in offerta li compro anche di marca se non li trovo in offerta li compro al pennio all'ins o da Aldi dove li trovo li trovo li compro ma quelli di Aldi non mi piacciono se no uso anche i panni in microfibra e poi uso le salviette quelle del Lidl che avete già visto multi star face ocean fresh quella roba lì le salviette una salviette per ogni mobile almeno non venti salviette anche per uno o due mobili uso una salvietta o due dipende da quanto sono grandi i mobili e ne ho tanti di mobili sia fuori soprattutto almeno le salviette le passo sia fuori che dentro ma i mobili magari il cassettone lo apro lo svuoto passo il panno in cattura polvere poi passo le salviette dopo e poi sul pavimento passo l'aspirapolvere lavo il pavimento quello è sapete già come pulisco la casa ogni quanto cambi i panni e gli stracci per pulire almeno se riesco ma non sempre riesco almeno una volta al mese cambio i panni in microfibra gli stracci ne ho uno e ne devo ricomprare un altro ma sono anni che ho uno straccio solo per il pavimento ma adesso non mi serve quindi lo uso se magari c'è qualche perdita lo straccio ma diversamente uso il mocio per lavare i pavimenti gli stracci non mi servono e i panni in microfibra una volta al mese se riesco li cambio quando faccio la spesona mensile poi dipende quando riesco non sempre riesco se magari una volta al mese faccio la spesa vedo che i panni in microfibra che ho non sono rovinati ovvio che non li ricompro solo se sono rovinati li cambio se sono sporchi se ci sono dei fili tirati se sono rotti rovinati li cambio se no non li cambio ecco diciamo così ovviamente li lavo perché i panni in microfibra si possono lavare in lavatrice in quale momento della giornata non ti va proprio di pulire al mattino poi ci sono delle mattine che ho anche voglia di pulire ma dipende se mi sveglio bene se c'è il sole magari senza insetti fuori eccetera io sono un po' particolare come abitudini però mi piace di più a volte pulire alla sera come dicevo a qualche mia amica su whatsapp mi piace di più pulire alla sera che al mattino al mattino magari mi sveglio sono lenta già a svegliarmi prima che mi alzo che faccio tutto che mi lavoro la faccia ci va un po' di tempo prima che mi sveglio quindi mi piace di più pulire magari il pomeriggio alla sera spesso alla sera più che al mattino al pomeriggio spesso al mattino pulisco anche senza voglia a volte anche voglia di pulire al mattino dipende al pomeriggio magari dopo pranzo mi viene la biocca non ho voglia dipende dalle giornate un rimedio per togliere i cattivi odori nella lavatrice nella lavatrice allora un rimedio per togliere i cattivi odori nella lavatrice io ho provato a mettere a parte il calcon che vabbè serve come anticalcare in lavatrice ma non serve per togliere gli odori ho messo una pastiglia di quelle della lavastoviglie nella lavatrice quando ci sono dei cattivi odori faccio un lavaggio a vuoto e rende la lavatrice pulita e profumata sì provatelo poi se ne avete altri di metodi di rimedi fatemi sapere se provo contro i tappeti ai tappeti in casa allora io li avevo quando sono venuta a vivere in questa casa qui un sacco di anni fa quasi otto anni fa sono qui in questa casa qui adesso non li ho più i tappeti mi piacerebbe averli almeno uno dal divano per camminare in scalza perché io cammino sempre a scalza però adesso non ho nessun tappeto quelli viola li ho buttati via che erano tutti rotti perdevano i pezzi in cucina anche mi sarebbero un tappeto sotto il lavandino ma ne avevo uno ma si perdeva tutti i pelucchi e me lo spostavo si spostava anche da solo quindi non va bene mi piacerebbe avere almeno un tappeto in cucina un tappeto sotto il divano ecco diciamo così non riempire la casa di tappeti comunque mi piacciono i tappeti da Ikea tipo nei negozi di casalinghi casa shop e cose varie mi piacciono i tappeti in casa d'altri mi piacciono secondo me non troppi tappeti in tutte le stanze magari no in bagno quelli dell'Ikea sì anche dai cinesi da Lidl li vendono sono molto belli in bagno sì azzurri mi piace avere il tappeto in bagno comunque sì mi piacciono i tappeti in casa non troppi non variopinti ecco se avete il muro magari rosso o i mobili rossi in cucina o mobili neri eccetera o blu o marroni è ovvio che un tappeto marrone col blu o viola col blu non mi piacerebbe tanto sia in casa mia che in casa d'altri però ognuno in casa proprio fa cosa vuole e quindi sì i tappeti in casa a me piacciono magari nella prossima casa ne prenderò uno o due a parte quelli che hai in bagno da mettere sotto il divano e in cucina mi serve assolutamente sotto il lavello perché ogni tanto schizza acqua dappertutto quindi il lavandino e la cucina poi cosa utilizzi per pulire gli spartifiamma o bruciatori della cucina uguale come prima non uso anticalcare non uso un prodotto solo per i bruciatori del gas gli spartifiamma eccetera ma uso uno sgrassatore oppure acqua e aceto e olio di gomito è una spugna di quelle che grattano o una spugna bileda o una spugna di quelle grigie che non mi viene adesso il nome come si chiamano quelle rosonde e grigie le non graffette spugnette antigraffio non mi ricordo quelle grigie comunque non mi viene il nome mi verrà in mente poi dopo che ho finito il video quello non uso nessun prodotto particolare acqua e aceto oppure il bicarbonato e aceto o acqua e limone anche mi sembra sì acqua e bicarbonato e limone comunque faccio una schiuma e passo gli spartifiamma ai bruciatori eccetera il gas poi visto che è acciaio inox lo passo a volte con un prodotto come il lavandino solo per l'acciaio inox adatto solo per l'acciaio inox oppure con uno sgrassatore qualunque una spugnetta un panno in microfibra e siamo a posto come e con cosa pulisci i vetri e gli specchi allora vi ho fatto già vari video non ho nessun prodotto da farvi vedere adesso comunque ho comprato due mesi fa un tipo vetril non di marca dell'euro spina un euro fucsia fuori e profuma parecchio pulisce anche abbastanza bene e poi uso usavo la carta di giornale ma lascio i pelucchi anche questa carta qui la uso io ogni tanto per passare i vetri ho i panni in microfibra ma lascio i pelucchi e questa carta qui anche la uso se non la carta di giornale per pulire i vetri gli specchi appunto a parte il simil vetril diciamo che uso un simil vetril detergente per i vetri anche se non è vetril di marca va bene lo stesso poi utilizzi un prodotto in particolare per mantenere il vici sempre pulito e profumato il vici net qualsiasi profumazione a parte quello con la candigina che non mi piace la candigina mi da fastidio però sapete già che uso il vici net fantastico cosa usi per aspirare e detergere i pavimenti detersivo per i pavimenti il mocio con il secchio che vi dicevo prima passo l'aspirapolvere prima di lavare il pavimento e basta si detersivo a volte ho pulito anche con l'alcol il pavimento ma non mi piace l'odore di alcol sul pavimento quindi no l'aceto per terra nel pavimento non mi piace quindi no uso qualsiasi detersivo per i pavimenti che vada bene e il mocio con il secchio l'acqua calda e bom lavo i pavimenti cerco un detersivo che profumi e che rimanga il profumo per mesi per mesi no però per tanto tempo su pavimento che non l'ho ancora trovato detersivo per i pavimenti che profumi delle ore generalmente quanti carichi di lavatrici fai alla settimana anche qui non ho mai contato non lo so non saprei dirvi non saprei rispondere forse due volte a settimana però faccio almeno di domenica è successo che faccio spesso due volte domenica sera almeno due lavaggi magari rapidi o a 40 gradi due lavaggi li faccio di domenica sera perché si risparmia di domenica anche di sabato ma in settimana magari ne faccio uno solo perché non è che c'ho tanta roba da lavare c'ho tanta roba c'ho poca roba preferisci detersivi lavatrice liquidi dashpots o polvere dashpots i detersivi in liquidi mi piacciono anche in polvere li usavo ma qualcuno mi ha detto che non vanno bene e quindi compro solo cos'è liquide adesso o dashpots o taps comunque fantastiche ammorbidente per la vita non l'ho ancora trovato forse i vernell mi piacciono tutti quelli della vernell il coccolino anche mi piace ma adesso non uso più gli ammorbidenti avendo le dashpots che profumano uso quelle e basta dopo aver risposto a questo video tag affermi di essere una malata ossessionata per la pulizia e l'ordine della casa è un tag giusto per una donna come te sì direi di sì che io adoro pulire adoro mettere a posto riordinare poi un giorno pulisco il giorno dopo di nuovo sporco non so se anche in casa vostra è normale che pulite oggi e domani c'è di nuovo del disordine dei pelucchi le calze che perdono i pezzi la polvere dappertutto le briciole di pane sotto il tavolo c'è sempre qualcosa tag chi vuoi io non so chi l'ha fatto questo video tag chi non l'ha fatto però taggo Mirella e Clara ricette resate in pochi minuti laurea smr e taggo Mary x Mary su youtube fantastica e magari anche Alessandra la dia del relax se vuoi farlo e Ilenia country girl ciao a tutti a presto scusate il video lunghissimo mi piace la maglia cinese grazie a tutti